Abbiamo organizzato questo evento perché oggi in Italia e nel mondo migliaia di adolescenti si chiudono in camera per cercare su Google come cambiare sesso ed oggi regna questa grande menzogna che tu sei nato nel corpo sbagliato e se vuoi essere felice devi cambiare sesso. Perciò noi di Provita e Famiglia Onlus abbiamo organizzato questo tour per portare la testimonianza di Luca Ein in varie città italiane e mediante lei dare voce a tutti quegli adolescenti che hanno sofferto sulla loro pelle e nella loro psiche questo grande inganno.